In origine era un cane da caccia molto efficiente, adesso è un ottimo compagno di giochi. Il barbone è un cane adatto per la famiglia, ama i bambini ed è molto protettivo. È una razza bellissima, intelligentissima, di origine francese. Il barbone era inizialmente usato per la caccia all'anatra e poi smessa l'attività venatoria sono entrati a far parte dei cani da circo proprio per la loro intelligenza e la loro facilità di apprendimento. Adesso fanno i cani da compagnia, i cani da show, presentati così, lavorati così. È un grosso impegno, ma ha vari tagli ed è un cane che per la famiglia, per la cana, è straordinario. Perché la scelta di questo cane? Perché comunque è una razza molto interessante, molto versatile. Può essere i cani da famiglia come anche i cani da esposizione senza nessun problema e si adestra molto molto facilmente. Ogni allevatore, ogni proprietario di cane sceglie la sua alimentazione. La maggior parte usano mangimi già confezionati, già preparati, secchi. Anche un'alimentazione corretta e bilanciata, fresca, la prepari tutti i giorni, va benissimo anche quello.